Quanto c'è di attendibile e di scientifico? Di attendibile per il momento ancora poco, perché il comunicato viene fatto da un ricercatore che non ha pubblicato i risultati su una rivista scientifica sottoposta alla valutazione della comunità internazionale. Quindi, come tante di queste notizie, lasciano un po' il tempo che trovano e quindi c'è da verificare se effettivamente questo esperimento è stato fatto nella misura in cui è stato dichiarato. Che suscita però una serie di perplessità e di problemi di ragionamento di tipo etico. Partiamo dalla tecnica. La tecnica è una tecnica che permette di arrivare in maniera mirata su un certo gene, di rimuoverlo e di mettere una sequenza corretta. Si chiamano anche forbici genetiche. Queste forbici però non sono purtroppo molto precise, nel senso in cui al di là di avere efficacia in un'alta percentuale di casi in cui si fa un intervento su uno specifico gene, si inducono dei tagli e delle mutazioni in altre parti del genoma. Le conseguenze di queste mutazioni possono essere visibili anche solo a distanza di mesi o di anni dopo la nascita. Quindi dal punto di vista pratico oggi non è ancora una tecnica precisa, è una tecnica che genera errori. Quindi è una tecnica che va utilizzata in certi contesti. Il fatto che anche dei ricercatori cinesi cominciano a avere perplessità sull'uso di queste tecniche, a me fa molto piacere perché io personalmente sono veramente contro l'idea di pensare che con le manipolazioni genetiche creeremo un individuo perfetto.